Tornano in azione i topi di appartamento in città. Nel pomeriggio dello scorso 17 novembre tra le 16 e le 17 un furto è stato messo a segno in via De Frentani traversa di via Pola in un'abitazione della zona situata al secondo piano di un palazzo condominiale. Un quartiere che nel giro di un mese sarebbe stato preso di mira per ben due volte. I malviventi avrebbero fatto incetta di oro tra gioielli e catenine. Il bottino del furto ovviamente è ancora da quantificare. La dinamica è in corso di ricostruzione da parte degli operatori del commissariato Repubblica Sicurezza di Sulmona che stanno indagando sulla vicenda. La polizia scientifica è inoltre intervenuta sul posto per effettuare tutti gli accertamenti rilievi del caso. Sembrerebbe che ladri utilizzando il canale di scolo siano riusciti a entrare tramite le finestre. Un'acrobazia tipica degli ultimi colpi messi a segno. Il fenomeno dei furti in abitazione resta l'osservato speciale soprattutto a ridosso di ricorrenze e festività. Con l'avvicinarsi del Natale si sta predisponendo uno specifico protocollo di monitoraggio e controllo del territorio per prevenire furti. In tal senso sta lavorando l'arma dei carabinieri che sta rafforzando i controlli a riguardo. I militari inoltre continuano l'opera di sensibilizzazione per contrastare le truffe agli anziani. Nei giorni scorsi il capitano della locale compagnia aveva chiesto ai cittadini di diventare sentinelle nei rioni e nei quartieri, prestando attenzione agli spostamenti segnalando le auto sospette.